Io per questa stagione spero di poter aiutare questa squadra al massimo fuori o dentro il campo. Se posso giocare sul campo darò tutto e se non posso darò tutto l'allenamento aiutare i miei compagnieri. Sono un giocatore per un difensore abbastanza tecnico diciamo, professionista e che dà tutto sul campo. Dal primo giorno che sono arrivato, dal primo allenamento, mi hanno aiutato subito, diciamo aiutarmi su dove devo andare, dove non devo, su questa linea difensiva e mi hanno subito messo bene. Io sono un amatore veramente dei film, guardo molto film, anche se di tv, ma è vero che siamo in una bellissima città, posso anche farmi una passeggiata in giro o sul mare. Un saluto ai tifosi rosso-blu, darò tutto per questa maglia e sono veramente contento di essere qui.